È stato approvato dopo una maratona durata 4 sedute il bilancio preventivo 2013 del Comune di Piacenza. L'ok della sola maggioranza è arrivato ieri sera attorno alle 23.15. Favorevole i PD, Piacentini per dosi, Moderati, Sinistra per Piacenza e Guglielmo Zucconi del gruppo Misto. Contrari Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Sveglia, PDL e Fratelli d'Italia. Assenti Samuele Raggi dell'Italia dei Valori e Filiberto Puzzu del Misto. Complessivamente la manovra si attesta attorno ai 115 milioni di euro, compresi però circa 19 milioni di gettito tares, la nuova tassa rifiuti che Palazzo Mercanti riscuoterà per poi girare a Iren. Circa 80 milioni di euro arriveranno dalle entrate tributarie, tra cui 49 milioni derivanti da IMU e dal Fondo di Solidarietà Statale per i Comuni. Taglio di 2,3 milioni di euro per gli investimenti 2013, che passano a 6,2 contro gli 8,5 milioni dello scorso anno. Per Tommoso Foti e i Fratelli d'Italia i piacentini pagheranno più tasse, per questo l'amministrazione ha la grande responsabilità di dare loro le risposte che si attendono. Però con questo bilancio volate basso, aggiunto, e vi affidate solo agli slogan, per adesso sensazioni concrete. Mentre Barbara Tarquini, motivando il no del Movimento 5 Stelle, ha parlato di spese non condivisibili, nessun incentivo per lo sviluppo economico di Piacenza, nessuna visione per il futuro della città, solo ordinaria amministrazione. Non vediamo nessuno sforzo per rivedere la spesa, per trattassare il meno possibile i cittadini, per tentare di attrarre sviluppo economico che sono assolutamente importanti. Ci sembra un bilancio fatto giusto per doverlo fare, ma riteniamo che anche su alcuni punti fondamentali, ad esempio il centro storico o d'altro, pur avendo accolto qualche nostra proposta, possa essere definito deludente. Un bilancio triste che non dà risposte ai piacentini, soprattutto in un momento di crisi, che non fa sentire la vicinanza delle istituzioni, con provvedimenti a favore della famiglia, mantiene un cosiddetto stato sociale non andandoci a vedere dentro, cioè oggi il 70% circa della spesa è a favore degli extracomunitari, non possiamo più garantire alcuni privilegi, si poteva e si doveva tagliare in questo settore. Il sindaco Paolo Dosi ha rivendicato l'impegno dell'amministrazione. Riteniamo che pur accettando, pur ascoltando ogni critica che arriva, la mia preoccupazione era quella di mettere in evidenza come la risposta che è stata data all'interno del bilancio, ma anche con le azioni quotidiane che stiamo costruendo faticosamente, ma quotidianamente, sono finalizzate a tenere innanzitutto un livello di servizi, come abbiamo più volte ribadito, che oggi non è assolutamente scontato tenere servizi alla persona e creare le condizioni per poter rispondere, cogliere quelle occasioni che ci consentiranno di rispondere al meglio alle sfide che arrivano. Concludendo il suo intervento, il sindaco ha ribadito il suo slogan, gli anni migliori sono davanti a noi. Il PD ha promosso convintamente il bilancio, ma non pare troppo convinto di questo ultimo messaggio. La politica deve cercare di dare delle speranze, è ovvio che, vista come è la politica nazionale, visto quello che è il clima economico, è ovvio che questo può essere solo un auspicio, per come la vediamo oggi, sicuramente gli anni migliori li abbiamo visti indietro.